Simeone, ottava edizione delle vie e delle foto che si presenta con numeri davvero importanti. Sì, un'ottava edizione tutta piena di sprint per la nostra manifestazione, questo è l'ottavo anno e abbiamo raccolto oltre 100 fotografi che verranno inseriti in ben 45 diverse location in tutto il centro città. La mostra fotografica si terrà come tutti gli anni dal 1 aprile al 30 aprile all'interno del centro città di Trieste e sarà visitabile grazie anche con l'ausilio delle nostre cartine in tutte quante le sue diverse location. Tante le innovazioni di questa edizione? Assolutamente sì, abbiamo tantissime collaborazioni e anche novità. Le collaborazioni nuove di quest'anno sono sicuramente quella con il Lions Club Duino Risina ai quali con la loro collaborazione faremo una serata conclusiva e i fotografi metteranno a disposizione una delle loro opere, delle mostre fotografiche e faremo insomma una raccolta fondi. Poi, altra collaborazione molto importante è sicuramente quella con Trieste, città della scienza. Insomma, mettiamo un piccolo piedino dentro Ace of 2020, insomma, e abbiamo già come obiettivo quello di fare una mostra nell'appunto 2020, tutta scientifica. l'altra collaborazione molto importante è sicuramente quella con i ragazzi di Civiform che hanno realizzato la grafica di tutti quanti i nostri cartelloni, i 3x6 e i 100x70 che trovate appunto in centro città, sono stati interamente realizzati da questi giovanissimi ragazzi che hanno messo tanto entusiasmo per realizzare queste grafiche. Altre collaborazioni? Per quello che invece concerne, diciamo, a livello della comunicazione, se qualcuno è interessato a contattarvi? Sì, allora, se qualcuno è interessato a contattarci, può trovare tutte le informazioni sul sito internet www.leviadelefoto.it, il nostro indirizzo email è info.leviadelefoto.it, ma soprattutto se vuole partecipare a tutti quelli che sono i nostri eventi correlati, che sono per esempio il tour guidati, le degustazioni gratuite, di cui abbiamo fatto anche con Oro Caffè o magari con High Levels per le degustazioni dei vini, o semplicemente per partecipare alla cena con il fotografo, sarà possibile trovare tutte le informazioni sempre sul sito internet, che ricordo è www.leviadelefoto.it.